Amici ai soft e liberi open source, benvenuti o bentornati in questo video che vi mostra le novità di Ubuntu 23.10 Ubuntu 23.10, nome in codice Mantic Minotaur, è stato appena rilasciato, oggi è il 12 di ottobre e sono sostanziose le novità, diciamo così, che sono presenti in questa nuova versione la prima riguarda l'arrivo di Gnome 45, la possibilità di avere il tiling del quarto di finestra grazie all'integrazione di una nuova estensione nel pacchetto estensioni di base di Ubuntu alcune modifiche all'installer e adesso andiamo, vabbè, diamoci uno sguardo così ci capiamo meglio facciamo, diciamo, creiamo la nostra bella macchina virtuale, scusate mi stavo intorzando con la saliva allora, andiamogli a prendere la ISO di Ubuntu non fate caso a queste cose che vedete, i cataloghi della Seiko che io mi scarico sui torrent sono una persona malata abilitiamo Wifi, abilitiamo tanto che ce ne frena facciamo partire il nostro installer facciamo partire l'arrive allora, vediamo un po' quanto tempo ci metterà, ci metterà di sicuro secoli perché sto in macchine virtuali e sapete che le macchine virtuali non sono certo veloci come il vento nel frattempo, se in questo video sentirete degli strafalcioni ogni tanto non fateci caso, ma sono reduce da un'assemblea di condominio per lavoro e niente, sto mezzo fuso e se ne è andata nuovamente la linea Tiscali grazie Tiscali avete voi anche voi Tiscali? faccio un piccolo sfogo in questo video utilizzo il video per lamentarmi di Tiscali negli ultimi giorni Tiscali mi sta lasciando a piedi praticamente in continuo, di continuo la linea va e viene con la telefonia che non funziona e quant'altro ti sto odiando Tiscali, sappiamo, dal profondo del mio cuoricino va bene, vediamo un po' nel frattempo il suono di Ubuntu allora questo è il nuovo installer di Ubuntu andiamo a dare uno sguardo e seguiamo un po' l'installer vediamo un po' che cosa c'è di carino innanzitutto andiamo a mettere la lingua italiana perché, altrimenti c'è il solito, classico, se lettore install Ubuntu provo Ubuntu vi ricordo che questo installer è un installer scritto in Flutter è stato introdotto in via iniziale con la precedente rese semestrale di Ubuntu e poi successivamente è stato reso di default anche in questo caso quindi anche su questa nuova versione è il installer principale c'è comunque la possibilità di scaricarsi una ISO con l'installer quello vecchio nel caso di problemi come il sottoscritto aveva avuto con il precedente reaggio allora, qui possiamo selezionare, come al solito la lingua della tastiera a disposizione usa connessione cablata ok, andiamo avanti allora, qui iniziamo a vedere quali sono le novità di questa nuova versione la prima riguarda l'installazione di default adesso l'installazione di default installa soltanto i pacchetti essenziali i browser web e qualche utility base abbiamo poi la seconda opzione che ci consente di installare tutto quindi ci consente di installare suite d'ufficio utiliti varie e alcuni giochi perché stanno proponendo come installazione di default quella minimale lo capirete a breve ve lo farò capire a breve qui comunque è possibile installare vediamo che la linea è tornata la linea è tornata vediamo se sto disgraziato dicevo qui comunque è possibile installare come al solito i driver di terze parti per quanto riguarda schede video, wifi e quant'altro in questo momento non mi prende la connessione per via di Tiscali che mi ha sbattuto fuori dalla linea internet e quindi non posso mostrarvi il classico selettore che vi consente di installare il supporto per i codec video e quant'altro cioè i codec video, i codec audio e tutto il resto in questa nuova schermata è stato introdotto il pulsantino vedete qua caratteristiche avanzate nel momento in cui noi andiamo a scegliere di installare il disco sulla nostra partizione possiamo selezionare le caratteristiche avanzate e qui troviamo due nuove funzioni sperimentali ve ne avevo parlato all'interno dell'articolo di presentazione di questa nuova versione di Ubuntu la prima funzionalità sperimentale è quella di utilizzare i file system ZFS quindi se volete utilizzare i file system ZFS potete farlo spuntando questa voce l'altra voce sperimentale è quella che vi consente di criptare l'intero disco mediante il TPM quel chip che è stato introdotto recentemente, a qualche anno sulle schede madri e che è anche uno dei requisiti per poter far funzionare Windows 11 uno dei requisiti che più ho odiato e quindi se in questo caso non è possibile selezionare perché sono su macchine virtuali ma se fossi su macchina reale sulla mia macchina avrei potuto abilitare il supporto sperimentale alla criptazione hardware dell'intero disco mediante TPM noi in questo caso non c'è di frica lasciamo tutti quanti i default e andiamo avanti li faccio fare tutte le partizioni infine qui selezioniamo la lingua mettiamoci il nome Marco il nome del computer Ubuntu e mettiamo una password difficilissima 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 dice che è facile ma ti permette di avere una password fragile e sicurissima ovviamente qui resta il solito selettore per poter mettere il login automatico oppure quello per gli Active Directory qui un'altra delle novità che è stata introdotta con questa install è la possibilità di selezionare a volo il tipo di tema e che facciamo? facciamo il tema chiaro o il tema scuro? ah bello! come potete vedere vi fa vedere subito l'anteprima del tema sotto è possibile inoltre cambiare gli accenti che ne so magari ce lo mettiamo sto verde qua ecco vedete c'è questo nero e questo verde fa molto come si chiama quella squadra? Sassuogo ecco fa molto Sassuogo questa abbinata però io siccome sono foggiano addio questo non è rosso Cristina Davina ma questo non è rosso? non è rosso vabbè fate finta che sia rosso quindi faccio il rosso nero del Foggia andiamo avanti e facciamo partire l'installazione classiche slideshow con le funzionalità vabbè nel frattempo che facciamo? fanno anche la pubblicità di Steam con Dota in primo piano io gioco a Dota mi piace molto Dota anche se negli ultimi tempi ero un po' abbandonato perché mi sto rendendo conto che è diventato un covo di nerd che nerdano in una maniera assurda è difficile giocarci soprattutto quando chiappate i rossi che prendono i puggi e vi fanno il mazzo a tarago va bene metto in pausa e ci vediamo alla fine dell'installazione altrimenti siamo qui a parlare per ore rieccoci è terminata l'installazione ci ha messo anche abbastanza poco facciamo un riavvio dai vediamo un po' vediamo un po' che cosa ci aspetta su questa nuova versione di Ubuntu nel frattempo la linea come potete vedere continua ad andare su e giù perché Tiscari Tiscari maledetta Tiscari ti odio Tiscari soggiorni che mi vedrà problemi Tiscari non solo se voi avete Tiscari nel frattempo che sia Ubuntu vi parlo delle mie disavventure con Tiscari Tiscari praticamente almeno una volta al mese mi lascia a piedi per almeno metà giornata con la linea ovviamente il supporto clienti è carente ogni volta ti fanno fare sempre le solite ti prendono in giro i telefoni ti dicono eh provate a spostare il modem provate a spegnere le solite stronzate vi fanno fare per palleggiarvi e poi alla fine non risolvono mai niente poi torna la l'arina dopo 5 6 7 e in questo caso negli ultimi giorni invece staccano ad andare su e giù su e giù i telefoni al supporto ai clienti Tiscari che ti rispondono e c'è un problema che stiamo ripristinando più presto possibile in danno sono 3 giorni che lo stanno ripristinando sono velocissimi a ripristinare i problemi e mi è appena caduta nuovamente la linea eh vabbè eh quando diavolo di tempo ci sta mettendo a caricare questa macchina virtuale un'eternità nel frattempo diamo uno sguardo a alcune schermate che sono presenti nell'annuncio di ubuntu 23 punto 10 allora è partito oh è partito eccolo qua mettiamo la nostra password è difficilissima e lo chiamoci oh che bello ha mantenuto il tema che avevamo settato il tema scuro si si ha mantenuto anche gli accenti bella questa cosa che una volta settato il tema durante il setup viene mantenuto l'impostazione quando avviamo il computer brava brava canonica per aver mantenuto questa cosa allora qui troviamo la classica schermata di benvenuto che ci invita a collegare i nostri account online di google nextcloud oppure microsoft anche volendo non lo posso fare in questo momento perché è andata giù la linea qui aiutaci a migliorare ubuntu per trasmettere l'informazione relativa al nostro hardware noi lo vogliamo aiutare anche perché in questo momento non ti possiamo nemmeno aiutare perché c'è la linea maledetta tiscali qui è possibile abilitare come sempre i servizi sulla geolocalizzazione e qui ci fa vedere l'app center in questo momento non sta caricando niente immagino che qui dovrebbe caricare una schermata con le applicazioni da instagram ma la linea internet non c'è quindi clicchiamo su fatto allora questo come potete vedere è gnome 45 e c'è già un aggiornamento di ubuntu sono pacchetti base sono pacchetti base vabbè lo installiamo in un secondo momento anche perché la linea non c'è in questo momento maledetta tiscali finirò mai di dire maledetta tiscali in questo video credo di no è il classico gestore degli aggiornamenti di ubuntu quindi nulla di nuovo sotto questo punto di vista andiamo a vedere un po' quali sono le applicazioni preinstallate troviamo troviamo qui il gestore degli aggiornamenti applicazioni d'avvio il solito tool per aggiungere e modificare rapidamente applicazioni in avvio automatico bravo ubuntu che continua a mettere driver aggiuntivi per instagram driver aggiuntivi calcolatrice editor di testo vediamo un po' se è l'editor di testo quello nuovo di gnome si a quanto pare proprio lui il nuovo editor di testo di gnome brava canonica per questa cosa si sono si sono finalmente resi conto che conviene mettere l'ultima versione di queste cose vediamo se il terminale invece è l'ultima versione di terminale e no invece questo è il vecchio di terminale di gnome giusto? si è il vecchio terminale di gnome non è la nuova versione allora andiamo a vedere un po' le impostazioni di sistema se è cambiato qualche cosa all'interno le impostazioni di sistema abbiamo gestione di reti l'aspetto qui possiamo modificare i classici sfondi di ubuntu omettiamo il tema chiaro innanzitutto perché si è bello il tema scuro ma vediamo come come mamma l'ha pensato con tema chiaro di default è arancione da tutte le parti qui la possibilità di impostare lo sfondo di quello dinamico gli sfondi che a questo giro sono abbastanza ripicanti lasciamo quello di default ubuntu desktop qui possiamo andare a personalizzare le varie estensioni di ubuntu quelle che rendono ubuntu diverso dalle altre distribuzioni basate su gnome qui possiamo modificare il comportamento dell'icone sul desktop quindi qui possiamo nascondere o mostrare l'icone dimensioni dell'icone posizione delle nuove icone in basso a destra in alta a sinistra come vogliamo qui è il comportamento della dock laterale c'è la possibilità di mettere nascondere automaticamente la dock che eccola qui come ci passate vicino si nasconde la modalità pannello che possiamo disattivare oppure attivare di default ovviamente la modalità pannello che non ci piace tanto dimensioni dell'icone mostrare solo sullo schermo 1 oppure se in caso abbiamo più monitor la posizione sinistra in basso oppure in basso non l'ho mai lo so allora so che molti di voi mi diranno in questo momento ma Marco ma tu non eri quello che era che ti piaceva PopOS perché PopOS sapete bene che ha questo questo gook diciamo così nel frattempo attiviamo l'ottospot vediamo che prendiamo un po' la connessione all'internet dicevo PopOS ha per impostazione la dock in basso però lo so io di solito come avete visto a modo come avete avuto modo di vedere preferisco togliere la dock stessa tutta quanta e la modalità pannello così in basso non mi piace è brutta il bello di Ubuntu è proprio avere la dock quella a sinistra perdono ho attivato le cose allora e qui vediamo anche un'altra delle novità ripartizione avanzata è stata tradotta così è stata che brutto nome che hanno utilizzato nel frattempo ci connettiamo alla rete Maggi Mobile meravide non meravide Maggi System connettiti oh vabbè manca la password come non detto dicevamo qui è possibile vedere la nuova impostazione quella presente su Ubuntu la nuova estensione che è stata che è stata aggiunta Ubuntu ve ne avevo parlato in questo nelle note di presentazione l'estensione tagging assistant gnome che è un fork o meglio di questa estensione che ci consente di avere un tagging un po' più avanzato quindi è possibile ripartizionare a quarti di finestra è possibile anche avere gruppi di ripartizioni io un po' che ne so prendendo il file manager ok ecco finalmente possiamo mettere il quarto di finestra oddio finalmente ma ecco non era andato ecco ci fa ci assiste negli tagging delle finestre come aveva promesso in nome dell'estensione è bella questa cosa qua rende l'utilizzo del desktop migliore diciamo così a me piace avere i tagging delle finestre di sport quarti mezzi e quant'altro a disposizione automatica è ottima cosa quella di Ubuntu di introdurre questa estensione per raggiungere per raggiungere questa funzionalità Ubuntu vediamo quali sono il resto delle novità no queste sono tutte le novità presenti su tutte le impostazioni classiche di Gnome quindi non c'è nulla di di nuovo sotto questo punto di vista vediamo che versione di dei file manager hanno utilizzato se è l'ultima versione si sembra l'ultima versione perché quasi l'ultima versione perché c'era le riscandidate non hanno aggiornato l'ultimo pacchetto disponibile tiratina di orecchie per per canonical perché non è messo la versione quella stabile del file manager vabbè evidentemente la rc la riscandidate è bit per bit identica alla versione stabile quindi ecco perché forse non l'hanno aggiornato vediamo invece l'altra novità infine l'ultima novità di questa nuova versione di ubuntu ovvero il nuovo app center che in questo momento di sicuro non mi funziona perché manca la linea allora vabbè vi invito a guardare il vecchio il vecchio video che vi avevo fatto al riguardo di nuovo questo nuovo center scritto in flutter abbiamo le solite abbiamo allora che cosa serve innanzitutto vi diciamo che cosa serve serve per poter installare i pacchetti in formato in formato in formato snap chiedo scusa mi stavo impappinando perché stavo cercando di far ripartire la connessione in modo tale e mi sta accadendo mezzo mondo un attimo che proviamo a far partire la connessione altrimenti così non combiniamo niente non vi posso far vedere metto un attimo in pausa ori eccoci ho collegato l'ottosport in modo da bypassare la maledetta tiscari che mi stava compromettendo la realizzazione di questo video dicevamo stavamo parlando del nuovo app center scritto in flutter vi ho fatto qualche tempo fa un articolo che vi spiega quali sono le novità e vi ho postato anche un video che cosa serve questo nuovo app center scritto in flutter serve soltanto l'installazione dei pacchetti in formato snap né più né meno perché non gestisce i pacchetti quelli classici e qui si spiega anche la scelta di Canonical di introdurre subdogamente a mio avviso come opzioni di default quella di installare soltanto i programmi in base ovvero il browser Firefox perché questi sono i programmi che trovate preinstallati su Ubuntu 23.10 soltanto il gestore degli aggiornamenti quello classico il tool per modificare le applicazioni in avvio il tool che serve per aggiungere i driver di terze parti per aggiornare in firmware statistiche energetiche calcolatrice supporto delle lingue terminale modulo di sistema quindi non vi mette nulla in questo tipo di installazione non vi installa nulla di fuori del browser in formato snap ovviamente perché Firefox in formato snap diceva qui sta secondo me la cosa subito di canonica quella di introdurvi anzi costringervi sempre più passatemi il termine a utilizzare fin da subito applicazioni in formato snap perché chi si trova a installare Ubuntu 23.10 si ritrova soltanto con queste applicazioni un utente distratto che va avanti e utilizza l'installazione quella di default la prima cosa che fa qual è avviare lo store dell'applicazione installare qualche altra applicazione per completare la propria installazione quindi che sono di seme transmission e va a installare transmission vediamo che versione ovviamente vi va a installare la versione in formato snap oddio ho fatto l'installazione del programma mi ero dimenticato completamente che adesso mi imparano è partito subito quindi che cosa succede succede che vi ritroverete installati tutte le applicazioni in formato snap e vi sarete costretti ad utilizzare le applicazioni in formato snap e viva la libertà vabbè io vi ho detto da utente di vecchia data non concepisco questa questo obbligo da parte di canonica questo obbligo subito nell'utilizzare le applicazioni in formato snap però tant'è loro stanno sponsorizzando questo formato di pacchetti vabbè è recito perché voglio fare di tutto per poter far utilizzare questi benedetti snap vabbè diamo un altro sguardo veloce a questa applicazione a questo app center nella schermata principale possiamo esplorare quali sono le varie diciamo così categorie di applicazioni che possiamo installare qui troviamo le applicazioni in primo piano ad esempio troviamo Krita che però il resto a parte Krita e Discord sono tutte applicazioni che non installierete mai in primo piano ti mettono le cose più inutili possibile ordinare anche in ordine alfabetico e per dimensioni che continuano a capire perché hanno messo questa opzione per ordinare le applicazioni in base alle dimensioni produttività in produttività troviamo i browser web e troviamo le suite da ufficio libero office ad esempio o l'office e qui come potete vedere ne approfitto per farvi vedere con le applicazioni in formato snapper abbiamo la possibilità di installare non soltanto le applicazioni quelle del canale stabile ma abbiamo anche la possibilità di installare le versioni di sviluppo di determinate applicazioni sotto questo punto di vista è molto comodo il formato snap perché grazie allo store potete passare velocemente da un ramo all'altro per le varie applicazioni oddio qualche volta vi potrà andare malissimo come è andato male a me nei precedenti video quando vi ho mostrato la possibilità di cambiare ramo con VLC perché VLC continua almeno sulle mie installazioni in macchina virtuale a dare problemi a non partire se installo la versione sviluppo però è utile questa funzionalità di poter cambiare ramo direttamente in maniera semplice poter selezionare di ogni pacchetto che cosa voglio mandare a installare se voglio installare la versione stabile la release grandidite il ramo edge o quant'altro questo è un punto a favore delle applicazioni in formato snap anche di questo app center qui in sviluppo abbiamo tutti quanti gli editor di testo la categoria giochi e anche in questo caso possiamo ordinare i giochi per rilevanza in maniera alfabetica oppure per dimensioni questa è una cosa molto stupida io ribadisco anche la stessa cosa che vi ho detto nel vecchio video perché mettete ordina per questa cosa avreste dovuto mettere che ne sono un'ordina per genere di gioco sarebbe stato più comodo vabbè ma non vogliono fare le cose come si deve andiamo adesso nella sezione gestisci nella sezione gestisci che cosa vediamo vediamo le applicazioni in formato snap che sono state instagate sulla nostra macchina troviamo firefox ovviamente che è il browser di default troviamo ad esempio trasmission che abbiamo appena che abbiamo appena instagato questo pulsante serve a fare la verifica degli aggiornamenti questo selettore che cosa fa ah ci mostra e nasconde gli snap di sistema quindi che ne so il core 22 che il pacchetto quello basso che serve per funzionare l'applicazione di snap di default non viene mostrato come giusto che sia perché che ne so possiamo fare possiamo fare dammaggi ah si possiamo fare dammaggi qui perché possiamo anche cancellare hanno fatto bene a nascondere questo tipo di applicazione e qui possiamo vedere anche un'altra cosa che anche il tour per la gestione degli aggiornamenti finicware è in formato snap quindi hanno proposto oltre a firefox anche questa applicazione in formato snap e vi faccio vedere anche al volo come funziona la gestione qui per il cambiare di ramo visto che già che ci troviamo mostriamo i dettagli e qui possiamo cambiare il canale siamo adesso sulla versione stabile vogliamo passare alla versione edge che è praticamente la stessa versione switch channel e qui ci fa il passaggio manca come vi avevo già detto nel precedente video manca un uno stato di avanzamento sulla sulla sinistra come nel altri store per adesso viene gestito tutto in finestra avete visto potete cambiare il ramo veramente con una facilità sudo per esempio facciamo con firefox giusto per farci del male show the town cambiamo e passiamo dalla c'è la versione stabile c'è la versione esr anche mettiamo per esempio il ramo edge cambiamo mettiamo la nostra password super sicura e facciamo il cambio e vi faccio vedere quest'altra cosa se non ve la faccio vedere per questo mi blocca tutto e mi inficio il video vabbè ci metterà dieci anni in questo in questo modo perché vi avevo detto che sto con la connessione con l'autosport grazie a Tiscary Tiscary ti odio te lo ribadisco anche in questa parte di video che dire le novità sono prettamente queste novità visive l'installer il nuovo app center e il nuovo installer che va a consentirvi di fare delle operazioni in più rispetto alla vecchia versione per il resto è la solita la solito Ubuntu da quel che è simile ho visto già video entusiastici di questa nuova versione di Ubuntu che dicevano che era la migliore versione di Ubuntu di sempre le solite cose nel frattempo vi sto facendo vedere anche il gestore degli aggiornamenti di sistema che è il classico gestore degli aggiornamenti di sistema quello storico che ritroviamo ormai da secoli su Ubuntu quindi nulla di nuova anche sotto questo fronte vediamo le impostazioni che si è cambiato qualche cosa nella gestione degli aggiornamenti non vedo nulla di nuovo è tutto quanto uguale a prima qui possiamo abilitare i Mantic Proposite quindi proprio è la solita Ubuntu la solita cara vecchio Ubuntu mi verrebbe da dire in questo caso con il suo solito Google con l'aggiunta di una nuova estensione che ci va a gestire il tagging delle finestre cosa gradita devo dire cosa molto gradita e vediamo se nei prossimi giorni se ho tempo permettendo perché in questo periodo ho un po' i minuti contati quando mi trovo a casa fuori dal lavoro vedrò di fare un test su macchina reale dai me l'ha formato la KDN mi metto su macchina reale questa nuova di Sidi Ubuntu giusto per vedere per vedere quali sono eventuali migliori a livello di miglioramenti di prestazioni ci sono di sicuro miglioramenti delle prestazioni grazie al nuovo kernel e alla nuova versione di Mesa il kernel ve lo faccio vedere adesso di preciso ho cliccato sul trasmissione quando dovevo cliccare sul terminale è il kernel 6.5.0 qua mi avevo segnato il comando per vedere la versione di voglio fare quello figo che la versione di Mesa che giustamente non è installato quindi che cavolo fare andiamo a installarci Mesa dai voglio vedere così faccio vedere anche la versione precisa di Mesa come perdere tempo Marco che fai perdi tempo dalla recensione parlando di queste cose faccio vedere queste cose si lo so dove ho trovato un recensore che vi fa queste recensioni alla buona 23.2.1 la versione precisa di Mesa perché io nell'articolo ho scritto 23.2 vado subito a correggere quindi voi che cosa ne pensate di questa nuova versione di Ubuntu la instagherete vi piacciono queste modifiche che sono state fatte per semplificare l'utilizzo del desktop fatemi sapere fatemi sapere voi nei commenti